Con il Presidente Scalabrino, io volevo parlare di un argomento che è strategico, quindi nella nuova banca, bella, dove si entra e si vedono anche delle opere d'arte, dal punto di vista dell'arredamento, ma anche dei quadri, si vede anche un atteggiamento diverso nei confronti degli spazi. Voglio ricordare che molto spesso noi giornalisti trattiamo il tema dei tribunali brutti, perché tu già da fuori hai l'idea di qualcosa di oppressivo, entri dove dovrebbe essere amministrata la giustizia con la G maiuscola, quindi un cittadino senza colpe dovrebbe essere felice perché lì dentro qualcuno ti difende, e invece già si è oppresso da spazi angusti e soprattutto da un rapporto con la luce assolutamente deficitario in città come Taranto, come le nostre del sud, che invece hanno un rapporto come dire solare. Ecco, allora, i luoghi che diventano non più arida contrattazione numerica, ma diventano luoghi di conversazione, il piacere di parlarsi in un mondo molto digitalizzato, dove addirittura c'è chi preferisce mandarsi un messaggino su WhatsApp e non guardarsi negli occhi e raccontarsi le proprie idee. Quindi anche in questo senso il vostro studio, la vostra progettazione. Premesso che siamo stati, credo, nel nostro territorio i primi già da una quindicina, 18 anni fa, a fare le casse sedute, quindi già 20 anni fa abbiamo iniziato a fare le casse sedute, non sul bancone. Quindi vede come già il rapporto, la banca stava cercando già di iniziare un tipo di rapporto diverso rispetto ai vetri, che ovviamente non è stato un problema di massa, ma alcune banche con cui noi relazionavamo hanno già attuato questa politica. Però adesso la trasformazione è ancora molto più avanti, lo dimostrano anche gli investimenti che stanno facendo i grossi istituti, che hanno affidato a dei Rockstar, Artistar hanno affidato progettazioni significative della nuova banca. Vede Unicredit, vedi Banca Intesa, vedi BPR che è una realizzazione che ho fatto alla nostra società, il quadrato a Reggio Emilia, una realizzazione che ha un concetto proprio che esprimeva poco fa il nostro direttore, che era quella di creare la piazza, c'è un'area, l'accoglienza, viene salvaguardata l'accoglienza. Il ritorno alla Gaurà. Sì, bravissimo, c'è eliminazione possibilmente delle barriere della bussola, che è il tornello che angustia ancora i nostri clienti. Nel frattempo tecnologie di macchinari ci hanno permesso di far sparire il danaro, cioè il danaro non è più a disposizione nei cassetti, ma stanno su delle macchine intelligenti e è un'espressione di banca intelligente, l'abbiamo fatta prima. Quindi bella e intelligente la banca. Intelligente deve essere, bella e stupida non va bene. Non ci piacciono. Perché effettivamente i malintenzionati ci sono sempre, quindi è una banca accogliente dove al centro del salone c'è il cliente, non c'è più la banca, c'è il cliente, le sue esigenze e oggi la banca che si mette a disposizione della clientela e rende l'ambiente caldo, armonioso, disponibile e magari anche con dei salotti di privacy dove ovviamente discutere. Però ci saranno salotti, nelle banche future ci saranno i salotti.